Regioni, dopo aver richiesto un intervento annuale di pulizia dell'ex ferrovia, qualcosa si muove? Sì, intanto ringrazio il prefetto Emanuele Agrego che ha risposto con una lettera, si è interessata, come ha fatto lo stesso anche anno scorso, a seguito della mia segnalazione, e ha scritto all'ente ferrovie chiedendo gli interventi che devono essere fatti lungo quella tratta. Un prefetto molto attento al territorio e quindi questo mi fa un enorme piacere. Una tratta che ogni anno ci troviamo a dover sempre intervenire per la pulizia, perché è una linea ferroviaria che costeggia molte abitazioni, che passa in punti anche strategici della città e che rimane indecorosa non solo la tratta in se stesso, ma poi è un indecoroso che va a colpire anche il territorio stesso comunale, dove ci sono le persone, dove ci abitano, eccetera, eccetera. Quindi sono di nuovo tornato in argomento, come faccio ormai da quattro anni, e ho chiesto all'ente ferrovie di fare un programma, che sia un programma fisso, quindi interventi da fare ogni anno, in modo da non dover tornare in argomento, perché anche se quella tratta ferroviaria è stata dismessa nel 1986, questo non vuol dire che debba essere lasciata in abbandono. È rimasta di proprietà dell'ente ferrovie e l'ente ferrovie è preposto a intervenire e a tenerla come si deve. Ora tendiamo appunto una risposta all'intervento da parte di RFI. Ma sicuramente sì, credo, come è successo nel 2023, che il prefetto ha convocato addirittura l'ente ferrovie e il comune di Fano, proprio in un tavolo, proprio su questo tema, quindi credo che anche quest'anno comunque l'ente ferrovie, perlomeno lo spero, intervenga e intervenga in maniera seria, perché voglio dire una cosa, l'anno scorso sono intervenuti, ma in maniera molto veloce. Io quest'anno ho chiesto di prestare un'attenzione particolare alla pulizia, perché se la pulizia viene fatta come si deve, ogni anno costa meno. E se si interviene ogni anno, chiaramente, il lavoro è minore rispetto a quello lì che è adesso. Ho chiesto un'attenzione particolare, soprattutto in via Regolo, verso dove era l'ex stazione ferroviaria, anche perché lì c'è una situazione un po' più particolare, perché è una zona molto più estesa, c'è una crescita di arbusti importante, ci sono anche degli alberi ormai secchi, che possono essere pericolosi perché sono anche nell'argine della strada, e inoltre lì c'è una raccolta di acque piovane che poi va a scaricare nelle condutture il deflusso del comune e ricordo che proprio quella zona, che non era ben pulita, ha creato anche degli allagamenti con le piogge. Grazie a tutti.